gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia certo che il centrodestra lo dividono lo descrivono diviso quanto volete ma in realtà in realtà non lo è e quindi chiederanno in maniera unita il centrodestra l'opposizione la minoranza che in realtà è la maggioranza del paese da anni chiede e chiederà a mattarella il voto anticipato mattarella non può non ascoltare la metà del paese oltre la metà del paese perché il centro sinistra con il movimento 5 stelle tutti insieme arrivano a un 42 per cento il centrodestra arriva quasi un 49 per cento quindi il centrodestra opposizione chiamata anche minoranza in realtà è la maggioranza bene non si sa conte che ruolo cercherà di ritagliarsi in questa crisi che si sta per aprire in maniera ufficiale il suo partito non è partito il partito non è partito è rimasto indietro è rimasto là sulla carta avrebbe dovuto già farlo da mesi la propria lista a quest'ora in tutti i sondaggi in ogni sondaggio ci sarebbe stato conte o la lista conte conte volevano chiamarlo così conte contot percentuali quindi avrebbe avuto una forza elettorale alle spalle avrebbe realmente capito se quei sondaggi ipsos che dicono che lui ha il 60 per cento mentre gli altri dicono 30 e ultimamente dicono 13 quindi ipsos 60 e alcuni dicono 13 se chi ha ragione se il suo partito era un partito dal 2 3 per cento o se era un partito come dicono alcuni dal 15 20 per cento come dicono altri dal 10 per cento ecco lui questo non l'ha mai verificato perché non aveva voglia sinceramente non aveva voglia di mettersi in problemi a creare un partito più facile fare il premier senza partito no o andare in un partito già bello che fatto si arriva ci si siede sulla sedia del del principe ereditario ed è finita lì ma conte negli ultimi mesi si è sopravvalutato non ha condiviso le scelte con nessuno è stato forse anche mal consigliato forse si è convinto di essere insostituibile non c'era nessun altro che potesse prendere il suo posto e non si è accorto che tutto stava cambiando che gli errori si stavano accumulando nel in questo esecutivo e quella verifica che doveva fare lui invece adesso la sta subendo sono gli altri che chiedono una verifica gli è arrivata addosso così all'improvviso beh comunque troppo tardi per fermare un'eventuale manovra contro il palazzo del presidente del consiglio beh così come potrà mattarella arginare le le richieste dell'opposizione e insomma quali sono le armi del quirinale per dire per dire al centrodestra eh no non si può andare a votare perché perché il vaccino sta arrivando lo stanno somministrando ormai si va verso l'uscita il tunnel di la luce c'è si va verso l'uscita la la pandemia dal 28 dicembre quando hanno cominciato a somministrare i vaccini va verso la fine anche se adesso c'è il colpo di coda la terza ondata e di qua e di là le persone vaccinate saranno sempre sempre di più e quelle che si potranno contagiare saranno sempre sempre di meno quindi il quirinale potrà dire siamo nel mezzo della pandemia no siamo all'uscita della pandemia cos'altro può dire eh ma no ma ci sono i numeri al senato questo governo non ha i numeri non è maggioranza assoluta non arriva ai 161 voti che sono richiesti come maggioranza assoluta per tante leggi non ce li hanno mattarella come può far partire un governo che non ha i numeri al senato che si basa sull'aiutino del gruppo misto l'aiutino dei senatori a vita l'aiutino delle autonomie cioè tutti quelli che se cade il governo sono disoccupati quindi aiuterebbero anche bel zebu ecco questa è la realtà quindi non è scontato che qui che il quirinale possa far nascere un'altra maggioranza beh poi c'è stato il referendum per ridurre il numero dei parlamentari dunque le camere sono già parzialmente messe in mora e l'ipotesi che una crisi possa chiudersi cambiando qualche ministero e il premier riproponendo una maggioranza identica sarebbe difficile da spiegare questo governo come spiega gli italiani tutto questo subbuglio Renzi l'ultimatum la befana il recovery che non va bene e soldi buttati nel water all'improvviso il 7 basta siamo tutti d'accordo perché stiamo facendo tutto bene abbiamo dato un ministero a Renzi uno alla boschi uno a rosato abbiamo spostato gigino di maio a un altro ministero così abbiamo ripartito un po' di poltrone tutto è rientrato come possono poi spiegare agli italiani no che le cose giuste che diceva anche Renzi sul recovery che non funziona sul piano di vaccinazione che non c'è adesso improvvisamente va tutto bene quando il 7 gennaio magari Renzi non ritira i ministri dice no beh Conte sta facendo le cose giuste e non sta cambiando nulla come farà questo governo a giustificare un cambio dalla crisi distribuzione di poltrone fine della crisi è veramente ma veramente ma veramente vergognoso a dir poco quindi sempre che non si arrivi a un terzo governo Conte tre volte premier che il Giuseppi potrebbe scrivere nel curriculum tre volte presidente del consiglio insomma ecco il curriculum comincia a diventare bello pieno eh beh finale improbabile a meno che Italia Viva non riesca nel miracolo di farlo passare come una sua vittoria la prova di una centralità costruita sulle rovine ma in realtà nessuno sembra in grado di dare le carte quindi non c'è non c'è il mazziere quello il banco manca il banco c'è una partita ma chi è che dà le carte forse Mattarella forse Conte Renzi dice che in mano a Conte Conte dice che in mano a Renzi Mattarella dice che in mano a Conte e Renzi insomma l'opposizione dice che in mano al centro-sinistra alla maggioranza e a Mattarella quindi tutti dicono che in mano a qualcun altro il il bando della matassa quindi alla fine è una partita senza il banco e la crisi se davvero ci arriverà per inerzia lo renderà ancora più drammaticamente evidente che non c'è non c'è una regia in Italia non c'è un regista non c'è un vero e proprio regista grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti